Ciao, sono Lianca e sono lieta di presentarti il mio nuovo lavoro, l'oracolo dei registri akashici. 44 carte, accompagnata ovviamente da un libretto in cui ti spiego come accedere ad messaggi da parte di Akasha. Sono 44 carte ispirate dai maestri ascesi che contengono anche 14 carte dedicate alle leggi universali. È un oracolo unico al mondo perché è l'unico oracolo esistente dedicato ai registri akashici. È un oracolo molto amorevole e di evoluzione e nasce proprio con lo scopo di farti giungere l'energia di Akasha. Akasha è amore, pace, guarigione e quindi riceverai sempre amorevoli messaggi che ti saranno utili nel tuo progredire della vita. La vita è un viaggio ma può essere meraviglioso. Tutti abbiamo delle prove da affrontare e le troviamo scritte nel nostro registro akashico, ossia il libro della vita. Ed è per questo che attraverso questo amorevole strumento potrai avere accesso a questa saggezza, ricevere una guida quotidiana. Ho pensato tre metodi inediti per utilizzare questo oracolo. Un metodo molto semplice, quello ad una carta per avere un consiglio e poi due metodi un pochino più approfonditi ma ben spiegati nel libretto di accompagno per ricevere proprio dei messaggi dei maestri ascesi. Inoltre questo oracolo può essere anche uno strumento di meditazione. Ti invito a sperimentarlo tu stesso e a ricevere gli amorevoli messaggi dei maestri ascesi. Ciao e grazie!